L'attesa di essere qui abbondantemente prima delle 16, nel primo giorno di campagna abbonamenti è stata ripagata perché tra le sue mani vediamo il libro celebrativo di questa cavalcata firmato da? Da Settembrini, ovviamente sono molto contento perché l'anno scorso mi sono divertito tanto. Se l'aspettava di trovare comunque la fila e la risposta in questo modo? Sono venuto primo apposta, sono venuto alle 3 e mezzo perché pensavo ci fosse un'infinità di gente. Quest'anno, visto gli andamenti dell'anno scorso, spero e penso ci sia più abbonati.